Fere, ma come mi hai conciato? Benissimo, Steph! Non ti vedi? Stai troppo bene, soprattutto quel papillon ti dà un tocco di classe che guarda nessuno nel mondo, Steph. Non sei felice? Devo andare in giro vestito così? Sì, e sai dove sono i tuoi vestiti? Dove? Buttati in mare, per sempre. Sì, non avrei mai più un vestito in tutto il tuo guardaroba, Steph. No, cara. Mi dispiace. Una cosa del genere non me la puoi imporre. Oggi posso anche accettare di andare in giro così e farmi umiliare da tutti ma per sempre mi rifiuto. L'unica cosa bella è che si vede il mio tatuaggio gigantesco. Guarda che bello, Fere. Sei felice di quello? Sei felice? Felicissimo, è troppo figo. Almeno quello, Steph, perché oggi andrà malissimo. Non vuoi mostrare il tuo tatuaggio? No, 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 grazie. E ragazzi, come va? Io sono Fere, Niki. E io sono Steph, è che stai giocare il mio GTA V. E oggi è arrivato il giorno più bello della mia vita, Steph, perché i consulini hanno votato, il decreto è stato approvato e oggi subirai la mia vendetta, Steph. Sì, la subirai perché hai provato a farmi un torto, hai provato a umiliarmi davanti a tutti, quindi tutti adesso pretendono giustamente la vendetta. È giusto così, Steph? Se vai a un torto te lo devono restituire. È giusto, no? Giusto. Pan per focaccia, come se lo dobbiamo dire? Occhio per occhio, dente per dente, te ne devo dire altri, Steph. Voglio giusto farti una domanda prima di iniziare. Sei soddisfatta delle cose che hai pensato, delle torture che hai pensato o non sei totalmente soddisfatta? No, sei soddisfatta. Sei soddisfatta, sì. Poi non so, magari me ne verranno in mente altre, però sai com'è, a brucia pelo bisogna trovare qualcosa, quindi le ho fatte e oggi subirai e basta. Ok. Prima cosa, sei pronto? No, però vai. Allora, devi comprare, siccome tu hai rovinato il mio veicolo, ma io non sono infame come te, Steph. Ok. Ti farò spendere tanti soldi per un veicolo brutto che ti dovrai tenere e dovrai andare in giro per quello tutto il giorno, Steph. Ok. Per quello tutto il giorno, ho detto male. Ok, va bene. Allora, andiamo nei siti e scegli che cosa devo utilizzare. Allora, di sicuro quelli brutti, Fer, sono in Southern. In Southern, infatti, sono già lì, Steph. Allora, ordina per poi, vediamo un pochettino cosa. No, però voglio qualcosa di costoso, quindi andiamo dal più alto. Cioè, cerchi proprio una cosa costosa, ma brutta. Certo, perché, scusa, altrimenti che senso ha se te la faccio pagare poco. Io l'ho già vista, è che poi è la più costosa. Certo, la Vapid Desert Ride, giusto? No, il furgone. Per fare parte da stante da capogiro, mi sembra perfetto per Steph. Che furgone, Fer. Quello in alto, il primo. Ma questo coso? Sì. Sembra un pompiere fallito, capito? Perché, allora, sembra un camion dei pompieri. Non ho capito, infatti, che cos'è. Però ha troppe sponsorizzazioni, quindi sembra il pompiere fallito. Che, tipo, non è riuscito a fare soldi facendo il pompiere. Si è dovuto far pagare le sponsorizzazioni per il camion e così va avanti. Quindi oggi farà il pompiere. Costa un milione e tre. Esatto, Steph. Non possiamo prendere... Sgancia i soldi, Steph. Quali cosa che magari costa 50 mila. No, no, voglio questo. Voglio questo perché mi piace. Non ti piace la Vespa da 5 mila? No, no, Steph. No, no, guardala, eh. No, Steph, che guardo. Guarda, si chiama Principe Faggio. Peggio di così, secondo me, non c'è nulla. 5 mila e siamo tutti felici. Non mi interessa. Tu non sarai un Principe Faggio oggi, ma sarai un MTL Dune. E' felice. Va bene. Eh, sì, molto. Non vedevo l'ora di buttare i soldi. Vedi il lato positivo, lo puoi sfruttare in altre occasioni. Sì. Per andare in giro. Aspetta, Fede. Devi fare un trasloco almeno in un bel furgone. Ci sono pure due versioni. Aspetta, scusami, vediamo un pochettino. Perché non bastava. Eh, qual è la più brutta? No, la prima, dai. La seconda è anche bellina, la Fucado Rally. La Globe Oil è davvero brutta, secondo me. Quindi vai, Steph, acquista. Acquista. E oggi andiamo in giro con quello. Ah, per di più, da quello che vedo, devo pure chiamare per farmelo portare. Non è neanche una roba che è tuning garage. Cioè, già non basta che fa schifo, me lo devo pure tenere telefonando e me lo porti. Sì, perché è un veicolo talmente importante che te lo devono portare, Steph. Te lo devono portare. Allora, aspetta che chiamo e vediamo questa specie di obbrobrio. Ho paura di vederlo, devo essere sincero. Ok, Fede, siamo quasi arrivati. Ce la faremo, perché c'è da dire. Eccolo! C'è da dire che è talmente brutto che abbiamo dovuto provare a farcelo portare tipo cinque volte. Non lo volevano portare, Steph, perché è talmente brutto che, guarda, si rifiutano. Prego, Steph, a te l'onore. Soprattutto con quelle mutande. Prego. Sto continuando a guardare. Vabbè, saliamo. Sei felice? Che bello, questo veicolo. Vale proprio un milione e trecentomila dollari. Però almeno, Steph, sto notando una cosa. Rispetto agli altri camion, è veloce. Quindi dai, hai un bel motore. Vedi i lati positivi, Steph. Che non ci sono i lati positivi. Però cerca di vederli. Hai capito? È proprio una setta, non fa fermarlo. Io ti voglio fare una domanda. Dimmi. Secondo te, a che serve? Non lo so. Ma il fatto è che, allora, è successo questo. Io sono andata a vedere i veicoli disponibili. Ho visto questo, brutto, con questi sponsor che non hanno senso di esistere. Inutile, perché sinceramente anch'io non ho trovato l'utilità di avere un camion conciato in questo modo. Costoso. Quindi ho detto, va benissimo, per Steph è perfetto. E adesso te lo terrai per sempre, perché non lo puoi neanche vendere. Lo so. Te lo terrai e probabilmente lo useremo in altri video, Steph. Perché bisogna ricordare l'umilazione. Per cosa dovresti usarlo? Per ricordare l'umilazione che tu oggi hai subito, perché vanno sempre ricordate queste cose. Vabbè, 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 vabbè. Allora, fammi parcheggiare questo. Ma come? Dai, lo vuoi già parcheggiare, Steph. E poi non posso scendere. Eh, chissà come mai mi sono messo a dire. Se scendo, cado lì. Dai, fai fare la promarcia. Smettila. Non le puoi fare queste cose. Ti investo, Steph. Beh, direttamente io non ho fatto nulla. Steph ha una bella guida. È maneggevole. È bello, è bello, è bello. È tutto tuo. No, grazie. Lo lasciamo qui e qualcuno se lo prenderà. Ok. Allora, passiamo alla seconda cosa da fare oggi. Allora, Steph, sappiamo... Ti alzi, per favore. E mostri un minimo di dignità oggi, Steph. Come mi hai vestito apposta per come sono vestito? Eh, può essere, può essere. Dicevo, altra cosa da fare. Ok. Sappiamo tutti che a te piace fare gli stunt, giusto? Che hai una moto dedicata. Certo. Che ti ci dedichi tanto. Non è che mi piace. Sono il re degli stunt, Fer. È diverso. Cioè, non è solo divertirsi a farli. Quindi, il re degli stunt deve avere una moto adatta. Per essere il re degli stunt, Steph. Quindi andiamo a modificare la tua moto. Sì. Sicura. Allora, siccome è molto brutta la tua moto da stunt, ho deciso che le diamo una riverniciata. Allora. Ok. Devo dire, non è proprio bellissima, ma addirittura brutta. È brutta. E secondo me, quella moto non è degna del titolo del re degli stunt, scusami, eh. E tu la vorresti migliorare. Sì, certo. Proprio tu. Con il mio gusto. Non con il tuo, ma con il mio. Ok. Sì, sì. Stiamo a vedere. Quindi ti darò consigli ottimi, Steph, per avere la moto perfetta per i tuoi stunt. Sicuramente, Fede. Sì, perché così la prossima volta che faremo le lezioni di stunt, tu avrai una moto talmente bella che mi invoglierai di più a imparare, capito? Sì. Non mi lamenterò più di fare gli stunt. Vedi che ci guadagni, Steph. Ci guadagni. Che stai facendo? Sto vedendo come reagisce. Fede. Te lo meriti. Te lo meriti. Perché li devi disturbare. Perché li prego. Ma quanti sono? Adesso se la prendono anche con me. Ma che bello che sei, Steph. Allora, vestito così, io ti dico che ci stai benissimo. Ci stai benissimo, Steph. Sei felice? Sei felice? Allora, vorrei far notare i consulini, perché penso che questa moto abbia bisogno di una presentazione, dato che tu non mi sembri molto propenso a esporre tutto quello che abbiamo fatto. Assolutamente no. Allora, colore di base fucsia, colore secondario viola, le ruote, abbiamo messo questi cerchioni che secondo me ricordano dei fiori, perché poi mettendo anche il colore rosa, secondo me sembra che delle ruote abbia forma di fiore. È molto divertente. E quindi mi sono piaciute tanto e ho deciso di metterle. Ma la cosa più bella, vai Steph, prego, suona il clacson. Così ogni volta che farei lo stunt potrai suonare questa bellissima musichetta. Sei felice? Sì, moltissimo, Fede. E questa te la tieni, eh. Te la tieni così, Steph, per sempre. Perché questa è la penalità che ti tieni per avermi fatto... Allora, te la tieni per sempre. Il camion puoi usarlo o non usarlo, però questa te la tieni. Ok. Ok. Sai che cosa succede adesso, vero? Cosa? Che sei seduta insieme a me. Non facciamo un incidente. Steph, allora dobbiamo fare un'ultima cosa. Se non vuoi peggiorare quello che dobbiamo fare, vai tranquillo dove dobbiamo andare, al labirinto, ovviamente. Al labirinto. A fare che cosa? Spiegami. A giocare. A divertirci un pochissimo. Ok. Per fare qualcosa di divertente anche per te. Dopo tutte le cose che mi hai fatto ormai... No, è una cosa divertente anche per te questa. Vedrai, ti piacerà. Quindi vai, limitati a guidare bene perché altrimenti ti faccio fare di peggio, Steph. A me non me ne frega più nulla. Questa è la dimostrazione palese che sei ridicolo come stunt. Sei davvero ridicolo. Vabbè. E ti meriti quella moto, te la meriti. Adesso faccio il sondaggio. Il sondaggio. Steph, si merita per sempre questa moto? Sì o no votate? Perché te la meriti, Steph. Se fossi un bravo stuntman avresti una moto professionale. Invece questa te la meriti. E te la devi tenere così. Sì, ma non ho trovato una rampa. È solo per quello che ho sbagliato. No, 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 no. Sbaglino, Steph. Guarda di nuovo. Cosa stai facendo? Sei seria? Cosa stai facendo? Sei seria? Allora guarda questo. Ecco qua. Ricordatevi il sondaggio. Se la merita questa moto, in coro, sì. Piegami cosa ci fai sopra le foglie del labirinto, Fere. Corri, Steph. Corro? Sì, devi correre. Perché? Devi correre in giro. Ok, ma perché? Perché è divertente, Steph. Fere, cosa stai lanciando? Niente. Ti sto lanciando coriandoli. Che esplodono, Fere. No, non esplodono, Steph. Avvicinati. Tranquillo. Va tutto bene, Steph. Fere, per amore, un tizio a fianco a me. Non so chi fosse. Va tutto bene, Steph. Tranquillo, scordi. Oh mio Dio, l'ho scrivata di pochissimo. Dammi con la ceca con questo. Aiuto. Non è divertente. Te l'avevo promesso che ci saremmo divertiti, Steph. Ti ho preso. Oh mio Dio, è stato bellissimo. Non avrei mai detto di riuscire a prenderti. Io le tiro a casaccio perché ovviamente non vedo dove vai. E quindi il divertente è riuscire a prenderti non vedendoti. Polizia, basta. Non rovirate i vostri giochi. Non rovirate i vostri giochi, avete capito? Cosa, Steph? Ho sentito bene. Vuoi fare il secondo round con le molotote? No, non lo voglio fare. Perché ti stai divertendo troppo. Allora vai, Steph. Mi rifiuto di correre. Vai, ti ha contento. No, Fari, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. No, dall'altra parte devi correre. Ok? Dai che ti stai divertendo. Su, vai, Steph, vai. Che è molto divertente. Ora ti prego io, sto bracciando. Ok, sto bene. La cosa brutta delle molotote però è che non arrivano troppo lontano. Steph, mi stanno risparando, ma quella poliziana non mi lascia mai in pace. So quasi morto. Oh, aiuto. Mi ha sferato. Ti ho preso? Quasi. Ti prego, dimmi che ti prendo prima che mi faccia fuori la polizia. Non lo so, Fari. Sto scappando. Non ci provare. In mutande. In una montagna. Scalzo. E disperato. Guarda, Zico Zago, non mi colpirei mai. No, lo devo fare, Steph. Anzi, la polizia non mi ha dato la gioia di fare quello che stavo facendo e quindi sono molto arrabbiata. Quindi adesso, sorelli, io tiro il bersaglio perché sono molto arrabbiata, Steph. Era così divertente. Eravamo così felici insieme e la polizia ha deciso di rovinare tutto. Dai, non stavi ridendo? No. Ti stavi ridendo? Dove sei finito? Sto correndo. Quanto corri poi? Ma che cavolo hai al posto delle gambe? Dove stai ridendo? Ho dei bei polpacci allenati, Fere. Torna indietro. No, sto continuando a scendere la montagna. Aspetta. Oh no, mi rivede. Sì, perché se sono in alto e tu sei in basso. Aiuto. Non so se la mia pistola arriva a colpire così tanto. Sì, mi stai colpendo, ma sono ancora vivo. No, non ci arriva più. Quindi devo usare il cecchino adesso, Steph. No. Ecco fatto. Ehi troppo lontano col mitra, non ti prendo, ti vedevo più, l'ho dovuto farlo. È stato molto divertente. Forse potremmo farlo. Te che giri nella montagna, intendo io che ti prendo col cecchino. Perché non abbiamo fatto questo fino all'inizio? È molto divertente. Ci avevo pensato. Allora, fammi guarda. Ci avevo pensato, Steph. Siamo qui da 35 minuti. Mi hai torturato a sufficienza. Mi hai fatto di tutti i colori. Mi hai fatto per di più due cose permanenti. Ovvero, un veicolo terribile che costava l'ira di Dio. È la mia povera moto da stante, rosa e viola, che non potrò più usare. Non farò più stante. Mi ritiro, te lo dico ufficialmente. Lo dico adesso. La mia carriera da... Te l'ho detto che è divertente, Steph. Scusa, ma è davvero, davvero divertente. La tua carriera, dicevi, Steph. Ti stavamo tutti ascoltando attentamente, sì. Online. Esci da GTA online. Ok. Beh, ragazzi, lasciateci un like. Questa è una volta che il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Grazie a tutti.